Il primo gioco di SES Carol, finalmente hai vinto perché hai stato un po' un'unica in ultima parte In la SES in ultima parte ho scoperto non è così bene In finale ho iniziato perfetto perché ero in la lead quindi perfetto Coddridge e Dorian mi spaventavano molto forte perché ero in parte di me quindi in tutte le scelte ero in la lead e ho vinto Sì, ma hai stato sotto controllo la scelte per tutto il tempo perché in un momento ho pensato che Martin potrebbe arrivare a te invece hai sempre una buona scelta tra te e lui sì ho pensato perché abbiamo anche un po' di pressione quindi in fine ero in più 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 è così ma ok